Buongiorno a tutti e buon inizio settimana ragazzi, oggi sono qui per parlarvi del tentato omicidio che ha quasi commesso Romano Fenati ai danni di Stefano Manzi in Moto2. Ci troviamo nella tredicesima tappa del moto mondiale circuito di San Marino e abbiamo visto il peggio del peggio che il motociclismo può offrirci. Prima però parliamo della Moto3 perché anche lì ne abbiamo viste di tutti i colori soprattutto nel giro numero 22. Quando nell'ultima curva prima di mettersi nel retilineo finale un pilota apre prima il gas perde il controllo della moto cade e dietro tutti gli altri piloti che si centrano a vicenda coinvolti almeno 5-6 piloti se non ricordo male fortunatamente senza nessuna ripercussione grave perché lì sinceramente poteva cadere di tutto e di più. Veramente una scena orribile vedere tanti piloti cadere a terra nel retilineo e a parte questa scena molto molto orribile abbiamo assistito anche poi a una bellissima gara dove un gruppetto di testa composto da 5 piloti si sono susseguiti in sorpassi veramente favolosi dove il quinto in un giro arrivava primo e viceversa. Una gara strepitosa di Marco Bezzecchi leader anche del campionato mondiale di Moto3 purtroppo nell'ultimo giro o nel penultimo giro cade. Come cavolo ha fatto accadere veramente raga è una cosa assurda mi dispiace tantissimo perché così ha perso anche la leadership del moto mondiale di Moto3 dall'altra parte invece ha vinto un italiano che è anche per lui la sua primissima vittoria quindi veramente eccezionale. Parliamo velocemente anche della MotoGP perché non c'è moltissimo da parlare Valentino ha fatto da spettatore le Yamaha non sono ancora ai livelli delle Honda e delle Ducati una gara strepitosa di Dovizioso dove si aggiudica il primo posto e la vittoria a San Marino. Lorenzo e Marquez anche loro hanno fatto una bellissima gara un bellissimo scontro tra sorpassi e controsorpassi dove dentro di me ho pensato o cadono entrambi o cade uno dei due o vanno al photo finish proprio sul traguardo perché erano sempre la uno dietro l'altro. Ahimè raga uno dei due è caduto ovvero Lorenzo questo mi dispiace ulteriormente perché Lorenzo aveva fatto una bella gara ma così facendo Marquez ha preso dei punti in più anche rispetto sia a Dovizioso che a Rossi che Rossi ha perso la seconda posizione nel moto mondiale perché gliel'ha presa Dovizioso vincendo chiaramente a San Marino questo gran premio. E francamente Valentino può salutare questo decimo titolo mondiale perché in questa season non lo vincerà mancano soltanto sei gran premi a meno che non succedano cose folli a Marquez non lo vincerà manco a morire. Adesso finalmente possiamo parlare di questo tentato omicidio che ha quasi commesso Fenati nel rettilineo a circa 220 chilometri orari Fenati allunga la mano va a cercare la pinza del freno anteriore di Manzi e tira una pinzata folle. Vedi la moto di Manzi che fa quasi uno stoppi si frena bruscamente Manzi non so come ha fatto a tenere in piedi la moto e a non cadere ma un folle gesto così non si era mai e poi mai visto. Lasciamo perdere che prima c'erano stati degli screzi ma sono sorpassi di gara uno va lungo spinge fuori l'altro forse c'è stato un mini contatto ma sono cose di gara tu non ti puoi permettere di andare in rettilineo a 220 ma neanche se stai fermo a toccare un altro pilota a mettere la mano sulla moto di un altro pilota cioè come ti viene in mente tu devi essere bandito a vita ho sentito molte persone che hanno detto che Fenati è un folle è un pazzo è no raga è soltanto un emerito coglione che non deve mai più mettere piede in un circuito e mettere il suo sedere su una sella di una moto l'MV Augusta deve lanciarlo fuori stracciargli il contratto e dargli una penale da cappelli dritti gli hanno dato due gare di penalità poche il moto mondiale se lo doveva scordare per almeno dieci anni o meglio a vita ho visto parecchi piloti che parlavano di questa cosa qua anche Marquez dovizioso Marquez addirittura ha detto che deve essere punito se no altri piloti vedono che questa cosa qua non è punita molto severamente quindi possono fare anche loro queste cose tanto sanno che non hanno ripercussioni e dentro di me dicevo sì Marquez e te tutte le tue cavolate che non ti hanno mai causato nulla cosa facciamo cioè veramente lì Marquez è meglio che stava zitto l'unico pilota che ha parlato bene è stato Carl Crutchlow che ha detto tutto quello che tutti noi pensiamo ovvero che deve essere bandito a vita da tutte le gare deve essere questo moto mondiale se lo deve scordare immediatamente il suo team lo deve assolutamente lanciare fuori l'unico che ha due robi così ragazzi è Carl Crutchlow che non ha peli sulla lingua e che dice quello che tutti noi pensiamo questo gesto folle di Fenati mi ha riportato alla mente un po' quello che ha fatto Max Biagi un altro pilota pessimo eterno secondo che non sa assolutamente perdere quando Max Biagi ha buttato letteralmente fuori Valentino Rossi anche lui nel retilineo allungando il gomito buttando fuori dal tracciato Valentino Rossi e buttandolo sull'erba a un metro dal muretto di cemento quello lì anche era tentato omicidio poi purtroppo a Max Biagi non gli hanno fatto nulla mi pare ci sia stata forse una piccola polemica e poi basta parliamo di tanti tanti anni fa e un altro gesto così l'ha fatto Biagi in un rettilineo nel finire della gara dove Valentino aveva vinto chiaramente Max Biagi gli rodeva sempre le chiappe dove Valentino per vincere si era seduto sulla moto dopo il traguardo stava salutando tutti e Biagi li passa 30 centimetri in carena a folle velocità a fianco cioè lì Biagi veramente si è dimostrato un emerito e potete dire voi tutto quanto perché Biagi è un altro pilota che veramente non sopporto senza divagare in altre cose eccetera Fenati è recidivo perché ha tirato dei calci mi pare a un altro pilota quando poi nelle qualifiche di non mi ricordo quale circuito ma stiamo parlando mi pare dell'anno scorso quando i piloti finite le qualifiche si apprestano per andare a testare le loro partenze anche lì si era messo a discutere sberle pugni anche in altri circuiti lui è recidivo quindi questa qui dovrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso e dovrebbero cacciarlo fuori tutti come l'aveva cacciato Valentino dalla VR46 perché Fenati prima era insieme a Valentino ma essendo una testa calda l'ha detto Valentino stesso l'hanno dovuto scagliare fuori perché Fenati si crede invincibile Fenati a mio avviso deve essere bandito da tutte le gare a vita il moto mondiale se lo deve scordare bandiera nera e a vita la patente da pilota proprio così stracciare tutto quanto voglio sapere sotto giù nei commenti voi cosa ne pensate e soprattutto qual è stata la vostra reazione io direi che non c'è nient'altro da aggiungere sono curioso di vedere cosa scrivete sotto giù nei commenti io ragazzi vi saluto vi ringrazio ci vediamo con tantissimi nuovi video Ciao